buongiorno 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 ci so eh eccomi qua hanno cominciato a far pulito e ho dormito un po di più stamani eh perché perché è un combi quindi siamo qua pronti allo sparo ci rievo un sacco di gente vedete siamo qui eh ci rievo molte persone stanno facendo pulito vediamo se ve li può vedere ecco lì lì amici disperati via questione di 10 minuti massimo quarto d'ora e siamo pronti all'uso bene a fra poco